Sette falsi miti sulla maturità 2024 che quasi sicuramente non sai. Su internet si possono trovare le tracce d'esame prima della maturità. Falso. Su internet circolano solo ipotesi. Le vere tracce non sono mai state diffuse online prima del tempo. Confermo tutto quello che ha detto Nico. Non trascorrete il vostro tempo a cercare sul web le tracce d'esame e vi fidate da chi vi propone di acquistarle, perché è impossibile. La Polizia di Stato vi augura di affrontare questo momento con serietà e serenità e vi fa un grande in bocca al lupo. In bocca al lupo.